Simeone di Cagnabrescia, presidente di Acquedotto Pugliese, il mio lavoro è cercare di far lavorare al meglio gli acquedottisti. Hashtag vivere per realizzare, hashtag acqua madre della vita, hashtag primo cittadino per sempre. Il mio pregio è di non innamorarmi delle mie idee, ma io non ho difetti, eventualmente sono gli altri che dicono che io avrò qualche difetto, ma per me sono perfetto. Innanzitutto la famiglia e poi cercare di fare, di non stare fermo. Saluti a tutti! Grazie a tutti!